E contemporaneamente siamo stati un paese sicuro fin qui, in un contesto globale in cui il rischio zero non esiste. Noi viviamo in un contesto globale in cui il rischio zero non esiste, ci sono a volte equazioni che non funzionano, ossia migrazione e terrorismo, abbiamo salvato mezzo milione di vite umane e al tempo stesso siamo un paese sicuro che vede crescere il turismo con percentuali significativamente superiori rispetto alla percentuale di crescita del PIL.